Weekend dei gusti, percorso a tappe nel cuore di Sasse, sabato 11 dicembre dalle 9.30 alle 13.30 Per info e prenotazioni sui carnet di degustazione via Roma 144 presso le ragazze terribili Telefono 347 320 5285 079 278 275 L'associazione Prendas de Itiri chiude l'anno con l'iniziativa della vendita dei cesti natalizi Disponibili per tutto dicembre in varie dimensioni e colmi delle eccellenze enogastronomiche locali Prodotti che non solo hanno ricevuto prestigiosi premi ai concorsi nazionali Ma che sono anche rappresentazione dell'identità e della cultura itiresi I nostri prodotti, ha spiegato Paola Cossu, presidente dell'associazione Sono l'espressione della nostra tradizione agropastorale Che nella produzione e lavorazione si è evoluta sempre nel segno della qualità e della genuinità Per l'acquisto e la prenotazione dei cesti si può telefonare al 320 67 14 928 Inviare una mail a prendasdeittiri.gmail.com Visitare il sito oppure il profilo Facebook La Notte Bianca di sabato 18 dicembre inoltre sarà occasione per visitare il punto prendas di Corso Vittorio Emanuele Publi Street, azienda leader in Sardegna nel noleggio Camion Vela Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!